Ciao a tutti! Allora, dato che non c'era il puzzle, quello che avevamo, diciamo, vinto i 3 euro, alla fine mi ha dato questo, che sono numeri fortunati, e dato che l'altro Grattavinci non c'era, l'aveva finito, ho preso questo qua. E ne volevo prendere un altro, per cui ho preso anche Turista, questo qua per 10 anni, che è nuovo, c'è scritto che è nuovo. Per cui, oggi grattiamo questi due, che in totale sono 5 euro, però, dato che ho vinto praticamente il Grattavinci dell'altra volta, questo qua non l'ho pagato, e poi ne ho preso un altro di 2 euro. Per cui, vediamo se vinco qualcosa, e vediamo se sono fortunati questi Grattavinci, come c'è scritto qua. Però, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, se non siete ancora iscritti al canale, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video di Grattavinci, seguirmi su Instagram, se non l'avete ancora fatto, ve lo lascio qui e ve lo lascio sotto in tutti i video, e un commentino qua sotto quale Grattavinci volete che io gratti. Quindi, dato che li sto prendendo tutti diversi, per cambiare e per vedere se sono più fortunati, per il momento vediamo se questo e questo mi porteranno fortuna. Ok, iniziamo. Allora, proviamo così e vediamo se riuscite a vedere. Comunque, iniziamo da qua. Undici, cioè vuol dire che, ad esempio, qua ho trovato l'undici e gratto l'undici. Cioè, dobbiamo completare praticamente tutta la fila, in poche parole. Poi, 80 non c'è, 24 è qui, 64 non c'è. C'è un po' di riflesso, vediamo con la luce spenta se... No, peggio. Poi... 56 non c'è, c'è 57. 35 è qui. Poi, 73 è qua. Un po' di... Poi... 75 è qui. Poi, passiamo sotto. 29, 29 non c'è. 25 qua. Poi abbiamo un 34, questo è un 54, 34 qua sotto. Me ne mancano due. Vediamo. 59, 59 non c'è. 45 neanche. 19 è qua. Qua ne manca uno, vediamo se esce il 44. Poi, 79 non c'è. Non c'è. L'ultimo, 28 non c'è. Bene. Proviamo a vedere... Aspettate che gratto bene, perché sennò non si capisce niente. Allora, questi sono i numeri, che ovviamente è tutto perdente. Voglio vedere se... Cioè, i premi che cos'erano. Allora, qua avevamo 200.000, per cui... Sembrava strano che... Qua... 250.000, qui 1000.000, qui 100.000, e qua 10.000. Per cui l'unico, che se avevamo il 20, potevamo vincere 10 euro. Gli altri numeri, praticamente, sono numeri alti, per cui questo gratto vince è perdente. Bene. Uno è già andato. Proviamo questo. Allora, questo qui credo che è uguale. Proviamo. Allora, numeri vincenti. Allora, grattiamo sopra. Abbiamo un 34. Un 35, per cui già che iniziamo così... Iniziamo male. Un 11. Il bonus per due lo lasciamo per ultimo, per cui questi sono i numeri. In teoria dobbiamo trovare questi tre numeri, giusto? Per cui... Qui abbiamo un 18, che è 5 euro, ma il 18 non ce l'abbiamo. Poi un 42, che non ce l'abbiamo, ed era 100. Un 28 e non ce l'abbiamo, per cui scommetto che anche questo sarà perdente. 22, niente. Uh, cavolo, 39. Non ce l'abbiamo. Madonna, secondo me lo fanno apposta. Poi un 16, e magari 100 euro, ma non ce l'abbiamo. 20, neanche. 20, neanche. Sono numeri troppo alti. Poi abbiamo il 27, che non ce l'abbiamo. E per finire il 33. Eh, ma dai, ma... Cioè, ma davvero... Cioè, 34, 35, cosa esce? 33, giustamente, con 50 euro. Vediamo se col bonus porta fortuna. Tanto più sfortuna di così. 15. E ovviamente abbiamo il 16. Giusto? Così si fa. Bene. Allora, se il grattavince è... Praticamente si gioca così, in poche parole non abbiamo vinto niente. Facciamolo confermare dal capo che... Vediamo il capo cosa dice. Adesso lo dico. Provo a controllare. Tanto non abbiamo vinto niente. Allora, abbiamo controllato e tutti e due sono perdenti. Perché c'è un'app che voi, con questo codice qua, vedete se è... Cioè, avete vinto oppure avete perso. Per cui sono tutti e due perdenti. Dato che sono sfigata questo... Comunque, niente. Questi qui sono perdenti. Pensavo che almeno qualcosina potevo vincere, dato che sono nuovi e non ci ho mai giocato. Però non sono male anche questi qua. Fatemi sapere se volete vedere un altro video dove gratto anche questi grattavinci. Intanto però ovviamente ne prenderò altri diversi. Niente. Detto questo, il video finisce qui. Pensavo che almeno qualcosina, un pochettino per recuperare qualcosa. Invece, vabbè. Comunque non sono male questi grattivinci. C'è il senso che sono belli. E... Cioè, io mi diverto a grattarli e a fare questi video. Se no, tanto vale. Per cui anche se le persone invidiosi metteranno sempre non mi piace ai video dei grattivinci perché sono ovviamente gelosi. A me non me ne frega perché dato le visualizzazioni diciamo che questo video piace a tutti. Per cui io continuerò a fare questi video. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere sotto qui quale grattavinci volete che io gratti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!